Salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Iniziamo col segno dell'ariete. In questi giorni qualche soddisfazione potrebbe arrivare o già essere arrivata. Mercurio ti affianca e ti rende più reattivo. Toro. Tra qualche ora la luna in Capricorno ti rende più lucido, un periodo molto fervido di idee e di tante opportunità. Sei una roccia e questo Marte nel segno ti rende più indistruttibile del solito. Gemelli. Nonostante oggi hai la luna in opposizione che ti rende più stanco. Si trova nello stesso momento armoniosa con Giove al tuo sole. Quindi dedicati a coltivare i sentimenti e dedicati a chi ti ama. Cancro. Goditi ancora qualche ora di pace. La luna entra tra un po' nel tuo segno opposto e avrai bisogno di raccoglierti in solitudine. Tieni sempre alta la guardia, alcuni nemici non demordono ancora. Leone. La luna in Sagittario ti esalta. Bella domenica. Non ti viene precluso nulla. Tutto splende attorno a te e ne sei consapevole. Vergine. Oggi dovresti sfruttare appieno il tuo intuito. Si prevede una giornata abbastanza impegnata ma con la tua capacità di concentrazione non sbaglierai un colpo. Bilancia. Tra qualche ora la luna fa capolino nel segno del capricorno e sicuramente ti renderà più nervoso ed ansioso. Molte cose sembrano star per cambiare nella tua vita ma attento a puntare sul cavallo vincente. Se in questo momento così positivo sbagliassi obiettivo sarebbe un vero peccato. Scorpione. Sei un segno molto introspettivo ma in questo momento cerchi di scavare ancora più dentro te stesso. Qualcosa da qualche mese è successo. Le tue aspettative erano molto riposte sulla famiglia, sui tuoi affetti. Forse già da qualche giorno l'atmosfera si è un po' indurita. Tutto un po' meno fluido con i tuoi cari. Sagittario. Qualche sagittario si lamenta con me che continua a dire che per voi è un ottimo periodo ma qualcuno lamenta che non succede nulla. Io vi chiedo ma cosa fate se una storia non ha più senso di esistere e continuate a mantenerla? Se non date una svolta alle vostre abitudini? Se avete paura del nuovo? Sì queste stelle sono fantastiche per voi ma non le attivate e sprecate un periodo d'oro. Capricorno. Tu sei un segno molto riflessivo ma questo periodo così difficile ed inclemente con te potrebbe portarti a prendere delle decisioni d'impulso. Devo chiederti di fermarti. Mercurio un po' dispettoso potrebbe farti sbagliare. Acquario. Stai valutando molte situazioni. Ancora non sai bene che strada percorrere ma sai che iniziative importanti possono cambiare la tua vita. E per finire il segno dei pesci un po' di stress. Una domenica un po' nervosa ma nulla da temere. L'amore sempre protetto. Se sei singolo in questo momento sei circondato di buone amicizie. Vi saluto a domani all'insegna delle stelle. Grazie.